All'armi in via Frausine stamane vicino alle scuole si aggirava un uomo con fare sospetto forse armato ma i carabinieri sul posto non trovano nessuno. C'è un dialogo in corso fra la regione e il ministero per ricercare nuove misure a contrasto dell'immigrazione della rotta balcanica. Dopo le firme sugli accordi Italia-Cina i sindacati lanciano un'allarme se Arvedi vende i terreni dell'area a caldo della ferriera molti lavoratori saranno mandati a casa. Un 24enne e un 39enne sono stati arrestati domenica dai carabinieri in due distinti episodi di cronaca, una violenza pubblico ufficiale e un furto d'auto. Sopra il luogo del sindaco e dell'assessore Lodi è il cantiere di Palazzo Biserini che dovrebbe conclusi versi in agosto donando un nuovo volto allo storico edificio. Il Teatro Verdi proverà a Trieste la traviata che sarà in Giappone in ottobre, ultimi ritocchi alle scenografie che arriveranno in oriente via nave. La pallacanesso Trieste batte di un punto a vellino ai tempi supplementari, partita difficile ripresa con grande cuore dai Giuliani, ora quinti in classifica. Telespettatori di Telequattro, buonasera, ben ritrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. È giallo a San Giacomo stamattina la segnalazione di un uomo che si sarebbe aggirato armato di pistola nei pressi dell'istituto di scuola materna di via Frausin. Ma bisogna ancora fare chiarezza in merito all'accaduto poiché i carabinieri intervenuti sul posto non hanno identificato il soggetto corrispondente alle descrizioni. Sentiamo. Quindi dobbiamo puntare molto sulla questione della sicurezza, stare attenti, vigilare, non creare allarmismi inutili ma nemmeno sottovalutare quelli che sono segnali che provengono dal territorio e che sicuramente devono farci riflettere. Era davvero armato di pistola l'uomo che, secondo una segnalazione giunti ai carabinieri, si aggirava stamani davanti il plesso scolastico di via Frausin? La vicenda presenti in contorni del giallo e la ricostruzione non è semplice. Di certo vi è appunto la segnalazione da parte dell'abitante di uno dei condomini della via insospettito dalla presenza di una persona che a suo dire teneva in mano una pistola. I carabinieri giunti tempestivamente sul posto non hanno trovato nessuno che rispondesse la descrizione, né di conseguenza hanno rinvenuto alcuna arma. Anche a me risulta questa notizia, ovvero che alcuni insegnanti abbiano visto una persona aggirarsi in maniera sospetta davanti a scuola, però da qui a creare allarmismi ovviamente ce ne passa. Questo però non elimina uno dei problemi principali che molte scuole della nostra città vivono, cioè quello della sicurezza dell'ambiente scolastico. Basti pensare che se uno fa una prova e va in alcuni istituti durante la mattina, istituti comprensivi o anche alle superiori, e apre la porta può facilmente entrare senza che nessuno gli chieda conto. Eccesso di zelo da parte dell'autore della segnalazione? Suggestioni in seguito all'episodio avvenuti a Napoli di recente, un nonno ammazzato vicino all'ingresso di un asilo davanti agli occhi dell'ipote? Di certo la notizia stamani ha fatto rapidamente il giro di San Giacomo, arrivando alle orecchie dei genitori dei bambini che frequentano il plesso scolastico, all'interno del quale nessuno vuole parlare, neppure per smentire le notizie circolate in mattinata, in base alle quali, ad esempio, anche una bidella o un insegnante avrebbero visto la persona sospetta. E questo è dovuto al fatto che, da un punto di vista governativo, le risorse dedicate e riservate alla scuola, soprattutto per il potenziamento del personale ATA, cioè dei bidelli, è sempre meno importante, c'è sempre un risparmio che va nella direzione, a mio avviso e avviso di moltissimi genitori che io ho l'onore di poter rappresentare nella direzione sbagliata. La sicurezza dei nostri ragazzi a scuola è la cosa più importante e sulla quale tutti quanti devono investire. Non possiamo far finta di niente. La Giunta regionale si sta confrontando con il Ministero per avviare nuove soluzioni a contrasto dei fenomeni migratori lungo la rotta balcanica. L'indiscrezione stamane, a margine della festa di Polizia di Stato, da parte del Presidente della Regione Federica, dell'Assessore alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti. Ovviamente ci preoccupano queste 80 persone, visto anche il numero consistente che in questa occasione sono stati rintracciati, il numero consistente di persone. Devo dire che fortunatamente fino ad oggi abbiamo limitato fortemente i numeri anche rispetto agli anni passati, però questo è un segnale a cui stiamo cercando di mettere in atto tutte le contromisure. Probabilmente ci sarà un ulteriore aumento di controlli sul confine, ma credo che sia fondamentale la collaborazione con gli stati limitrofi al fine di trovare una sinergia di intenti per andare a fermare a monte l'arrivo di irregolari e quindi il continuo aumento del business del traffico di esseri umani. Le operazioni proprio della Polizia hanno permesso, grazie anche al potenziamento che abbiamo messo in campo già ora, di andare a prendere molti passers che sono coloro i quali appunto permettono l'arrivo di immigrati clandestini e guadagnano sulla pelle delle persone. Noi monitoriamo quotidianamente la situazione, cerchiamo, siamo in stretto contatto con la prefettura e con la questura per capire qual è l'entità dei flussi, per cercare di capire quali sono le informazioni che arrivano anche da paesi esteri, dalla Slovenia, dalla Croazia, dalla Bosnia e per cercare di anticipare le mosse. Ieri stesso era il Ministero dell'Interno dove ho potuto incontrare il sottosegretario con delega all'immigrazione Nicola Molteni e abbiamo parlato ovviamente della situazione in generale ma anche degli avvenimenti delle ultime ore e cercando di trovare delle soluzioni nell'immediato che ovviamente appena riusciremo a mettere in campo comuniceremo anche alla stampa. Andiamo avanti, parliamo adesso della ferriera, andiamo a sentire la voce dei sindacati preoccupati dopo l'accordo Italia-Cina per l'area a caldo della ferriera di Servola. La paura è quella di un licenziamento massivo degli operai. Qui ci sono più di 700 lavoratori, compreso l'indotto siamo circa un migliaio, la questione dell'area a caldo conta circa 500 lavoratori, è evidente che se c'è una trattativa in corso per la chiusura dell'area a caldo, per far spazio a una piattaforma logistica, questa è una discussione che riguarda tanti, troppi lavoratori. L'accordo Italia-Cina, firmato qualche settimana fa, preoccupa ancora una volta i lavoratori della ferriera, che chiedono a gran voce garanzie e tutele. Noi abbiamo il bisogno di molta attenzione, molta attenzione da parte di istituzioni che devono in qualche modo essere al tavolo con noi per gestire questa situazione. Noi l'unica timore che abbiamo è che la questione si svolga in due tempi, che vada troppo avanti un ragionamento sulle nuove infrastrutture, porte e quant'altro, è che se la cosa, come sembrerebbe, riguarda anche le aree della ferriera, ci sia invece un secondo tempo, che in genere si realizza con molta difficoltà per quanto riguarda il portare nuove industrie, imprenditori, che possano in qualche maniera risolvere il discorso occupazionale. Le voci che vedono l'interessamento sempre di investitori cinesi su parte dell'area della ferriera potrebbe portare alla chiusura dell'area a caldo dello stabilimento. Con il rischio, secondo i sindacati, di un'immediata perdita di almeno 400 posti di lavoro, più altri 100 dell'indotto. Verranno occupate delle aree molto più in estensione rispetto a quanto detto nella prima stesura degli accordi, quindi sicuramente ci saranno dei problemi non solo per quanto riguarda l'area a caldo, ma abbiamo paura che nel futuro ci potrebbe essere compromessa anche il mantenimento dell'aminatoio. Cominciare a gestirla in anticipo perché la situazione poi significa governare appunto delle emergenze e delle situazioni difficili per le famiglie, per i lavoratori, per tutto ciò che comporta una perdita di lavoro molto repentina. Torniamo a parlare dell'inchiesta che ruota attorno al mondo dell'alma, in particolare l'assetto societario con l'arresto del presidente Luigi Scavone, che nell'ultime ore, dopo gli interrogatori dei PM a Napoli, ha ammesso le violazioni tributarie. Ha ammesso l'esistenza di violazioni di carattere tributario e sta fornendo ampia collaborazione agli inquirenti. L'imprenditore Luigi Scavone è arrestato nell'ambito di un'indagine nel nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Napoli e della procura partenopea su una presunta maxievasione fiscale da 70 milioni di euro. All'imprenditore, presidente dell'alma Palacanesto Trieste, è stata notificata nell'ambito dell'inchiesta una misura cautelare in carcere. Scavone ha anche spiegato come è entrato in possesso di alcuni beni sequestrati, quadri di Andy Warhol e stampe di Mario Schifano, che complessivamente hanno un valore di circa 250 mila euro, nonché alcuni Rolex. Ha ammesso che ci sono state delle violazioni tributarie, spiega il legale di Scavone l'avvocato Alfonso Furgiuele, ma il denaro è confluito nelle società anche per pagare tutte le tasse. In sostanza non sono uno strumento di frode. La società è una società vera, viva e ricca. L'obiettivo ora è trovare una soluzione rapida e condivisa per consentire alle società del gruppo di continuare a lavorare con serenità e garantire gli stipendi agli oltre 10 mila dipendenti. E per il conseguimento di questo obiettivo stanno lavorando in sinergia i magistrati napoletani titolari del fascicolo, gli avvocati degli indagati e gli esperti del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. Domenica impegnativa per gli agenti dei carabinieri di Trieste che sono stati chiamati a intervenire nella zona del giardino pubblico e in via Donadoni. Sentiamo i dettagli. È stata una domenica movimentata, quella appena trascorsa per i carabinieri di Trieste. Un arresto in flagranza di reato per resistenza e violenza pubblico ufficiale e uno per furto aggravato. Nel corso della prima mattinata gli agenti hanno effettuato un controllo di rutina all'interno del giardino pubblico di via Giulia. Alla vista dei militari, un gruppo di stranieri si è immediatamente dato alla fuga per sottrarsi ai controlli. Uno degli uomini, raggiunto e bloccato dai carabinieri, ha iniziato a inveire contro di loro, aggredendoli fisicamente, tanto che un militare ha riportato lesioni fortunatamente non gravi. Il ragazzo, un 24enne iraniano, è stato immobilizzato e portato in caserma. È risultato essere irregolare sul territorio dello Stato, quindi è stato dichiarato in stato di arresto e accompagnato al coroneo. Poco più tardi una pattuglia dell'arma è intervenuta per la segnalazione di un furto d'auto. Verso mezzogiorno, infatti, un 39enne triestino, pluri pregiudicato, si è impossessato di una Fiat 600 parcheggiata in via Donadoni. Il proprietario dell'auto, che al momento del furto si trovava in un bar, ha assistito alla scena e si è messo all'inseguimento a piedi del ladro. Durante la corsa è riuscito a chiamare il 112, fornendo indicazioni sulla direzione di fuga e la descrizione del soggetto alla guida. La centrale operativa dell'arma, grazie alle indicazioni della vittima, è riuscita a coordinare efficacemente le pattuglie sul territorio per le ricerche dell'auto in fuga, che è stata intercettata poco dopo. Gli agenti hanno quindi bloccato il mezzo e dichiarato l'uomo in stato di arresto, quindi portato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Al ridotto del Teatro Verdi è stato celebrato il 167esimo anniversario della Polizia di Stato. Con l'occasione sono stati premiati quelli uomini che per il loro operato si sono particolarmente distinti sul campo. La nostra scadenza annuale di celebrazione è l'occasione appunto per ricordare 365 giorni di impegno e di lavoro per la nostra collettività. Dobbiamo ringraziare per quello che fanno tutti i giorni sulle nostre strade. Il 167esimo anniversario della Polizia di Stato. Ecco cosa si è celebrato al ridotto del Teatro Verdi, alla presenza di politici e istituzioni. Una giornata per evidenziare con un plauso il grande operato dei nostri agenti che va ricordato ogni giorno agiscono sul territorio anche arrivando a rischiare la vita per l'incolumità dei cittadini e per la serenità di tutti noi. Poi vanno a finire sulle prime pagine di giornale, penso solo a quello che è successo qualche giorno fa con il furgone fermato dopo una fuga rocambolesca ma penso anche alla semplicissima attività anche di presidio del territorio senza nessun intervento. C'è quel presidio che garantisce al cittadino un senso di sicurezza che altrimenti non ci sarebbe. E come dunque non prendere in considerazione i recenti avvenimenti che hanno visto la nostra città obbligata a gestire i fenomeni migratori della rotta balcanica con l'individuazione ieri degli 80 profughi dalla Varrosandra, unito all'episodio di due giorni fa con quel folle inseguimento della polizia di un passeur col furgone carico di migranti. Noi riteniamo che al momento la situazione sia sotto controllo. Comprendo perfettamente le legittime preoccupazioni delle persone al momento posso dire che l'apparato di sicurezza sta rispondendo a quelle che sono le esigenze effettive. La cerimonia è stata anche l'occasione per omaggiare e premiare quegli agenti della polizia che si sono particolarmente distinti per coraggio, serietà e abnegazione nello svolgimento dei loro compiti. Sospeso dal 31 ottobre del 2018 il servizio di motosoccorso a Trieste, un servizio molto apprezzato dai cittadini che vede dimezzati i tempi di attesa del personale sanitario del 118. Oggi l'appello per il suo ripristino. È stato interrotto dal 31 ottobre del 2018 il servizio di motosoccorso a Trieste. La richiesta di rinnovo è partita dagli operatori sanitari della ASE Onlus che si occupa del progetto. L'appello è rivolto principalmente all'assessore regionale della salute Riccardo Riccardi chiedendo di poter ripristinare il programma degli infermieri a due ruote. Quello del motosoccorso è un servizio di emergenza del 118 che permette al personale sanitario qualificato di raggiungere con estrema tempestività i diversi luoghi della città, grazie anche ai veicoli a due ruote attrezzate. Un progetto lodevole e molto apprezzato dai cittadini. Un servizio che più volte ha dimostrato di funzionare in maniera efficace e tempestiva. Basti pensare come un intervento medio dell'ambulanza nel centro cittadino sia di 6 minuti, mentre quello del motosoccorso di soli 1 o 2 minuti. Ed in caso di arresto cardiaco può veramente salvare la vita. Abbiamo svolto quasi 600 servizi nel 2018 con la centrale operativa Sores, di cui un centinaio gestiti direttamente dalla moto, quindi senza l'intervento di un'ambulanza, quindi ambulanze frigorite risparmiate che poi hanno potuto svolgere altri servizi. Anche adesso fuori convenzione ci è capitato di soccorrere gente quando eravamo fuori con la moto per altri servizi, per altre manifestazioni e dover aspettare l'ambulanza anche per più di 20 minuti, ma non perché per colpa della centrale Sores che non invia i mezzi o perché non c'è disponibilità della centrale di Trieste dei mezzi, ma proprio perché i mezzi sono quelli che sono in certi momenti di punta e sovente che l'utente in strada deve aspettare. Infatti spesso durante la convenzione del servizio di motosoccorso la moto era l'unico mezzo disponibile che veniva inviato, e dirò di più, nel centro cittadino è capitato che veniva inviato a Muggia, sulla costiera eccetera, quindi anche fuori nel centro cittadino dove noi copriamo in linea massima il servizio. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ritorniamo tra poco con altri servizi. Ritorniamo in diretta con il nostro telegiornale, è stato presentato oggi in comune il nuovo piano occupazionale per Trieste, molte le categorie che verranno incluse per rinnovare i posti di lavoro e dare spazio a nuove assunzioni tenendo conto degli ultimi pensionamenti. Sentiamo. È un lancio nuovo di concorsi e di sistemi di approvvigionamento di risorse umane per questa straordinaria struttura amministrativa che il Comune di Trieste, che ricordo essere la più grande stazione multiservizi pubblica della regione Fruinenzi a Giugno. È stato presentato in comune il piano triennale per l'occupabilità e per i fabbisogni del personale a Trieste, un progetto che serve a sondare le esigenze di varie strutture inerenti all'assunzione di nuovo personale in diversi ambiti, dalla scuola all'infrastrutture, dal personale di pulizia, agli ingegneri, ragionieri, contabili e via dicendo. Insomma, un piano di ampio respiro che da qui a tre anni dovrà coordinare l'andamento occupazionale della città tenendo anche conto degli ultimi pensionamenti. È un piano che viene spalmato in tre anni a partire da questo, che vede in buona sostanza l'assunzione da qui ai prossimi due anni, 252 unità, anche forse qualcosa in più, dei più diversi aspetti, dei più diversi caratteristiche professionali dagli istruttori amministrativi, contabili, ragionieri, ingegneri, conservatori museali, polizia locale, eccetera, c'è istruttori educativi, dini, di maternità, insomma un'ampia gamma che chiaramente rappresentano l'elemento, come dire, di sfida per le nuove azioni che questa amministrazione ricompiere e in base ovviamente a pensionamenti che ci sono stati e a chiaramente blocco di turnove negli anni passati. Andiamo a leggere ora una nota dei sindacati e noi federazioni di pubblico impiego di CGL, CISL e Will, al di là di ogni rassicurazione sul tema, abbiamo sempre chiaramente presente l'atto di indirizzo presentato dai consiglieri comunali Cason e Panteche il 15 ottobre scorso alla Direzione Generale e Risorse Umane del Comune di Trieste, in cui al punto 1.6 della proposta di delibera invitavano il Consiglio Comunale a trasferire nella società in house Trieste Servizi, inclusi dipendenti, le attività di progettazione delle opere pubbliche, strade, spazi aperti e verde pubblico, musei e biblioteche, scuole di educazione, edilizia scolastica e sportiva, servizi di manutenzione degli immobili, promozione turistica, farmacie e case di riposo. Si invita a leggere cortesemente e pubblicare l'allegato chiedendo scusa per la sua brevità. Questo firmato dalle segreterie di CGL, CISL e Will del Comune di Trieste che dunque vogliono dare il proprio appunto riguardo alla possibilità che la società di servizi che si era presentata, si era parventata nell'ottobre dell'anno scorso, torni a far parlare di sé anche nella sede del Consiglio Comunale. Questa è la nota dei sindacati in oggetto CGL, CISL e Will per il pubblico impiego. Passiamo adesso a un sopralluogo questa mattina dell'assessore Lodi e del sindaco di piazza al cantiere di Palazzo Biserini che dovrebbe concludersi in agosto e ridare nuova vita allo storico edificio della biblioteca e dei musei letterali. Due milioni e mezzo di lavori, interessante, su una piazza Ortis che adesso diventerà ancora più bella con la recinzione. Rinascerà nuova vita con tanti spazi a disposizione dei cittadini tra cui un passaggio pedonale e vetrato che collegherà la corte interna con le uscite esterne su piazza Ortis e via Santi Martiri. Procedono i lavori all'interno del piano terra di Palazzo Biserini, iniziato nel maggio dello scorso anno e con conclusione prevista nel prossimo agosto. L'importante intervento anche nell'andronanterna dove andremo a creare una copertura in vetro e un accesso da via Santi Martiri in modo tale da fare un collegamento con piazza Ortis e proprio rendere vivo e partecipe in modo più assoluto il palazzo Biserini. Due milioni e mezzo di euro la spesa complessiva nell'ambito del progetto PISUS per la riqualificazione dello storico contenitore della biblioteca civica e dei musei letterari della città. Oltre all'elemento di forte attrazione costituito dal nuovo passaggio, sono previste sale di vario tipo destinate a ospitare eventi socioculturali, ma non solo, ci sarà posto anche per la vendita di prodotti tipici del territorio. Avremo delle sale multifunzionali, avremo i temporary shop con la vendita di prodotti tipici, un bar con i servizi, avremo dei bookshop, quindi una possibilità di partecipazione da parte dei cittadini a questa importante struttura museale, ma anche da parte dei turisti. Allargheremo l'emeroteca, la grande biblioteca, insomma abbiamo fatto anche una copertura della corte interna, per cui un altro pezzo di preso della nostra bellissima città. E ora con le immagini andiamo alle noghere, al laboratorio del Teatro Verdi, dove si stanno dando gli ultimi ritocchi alle scenografie della Traviata, che girerà 14, città del Giappone in autunno. Lo spettacolo verrà provato a Trieste e poi le scene viaggeranno per mare e raggiungeranno proprio il Giappone. Verso il Giappone il Teatro Verdi prepara la tournée che ad ottobre porterà Traviata in 14 città del Sollevante, al ritmo di un teatro al giorno. Al momento il Verdi si concentra sulle scenografie della messa in scena verdiana. Necessita ovviamente di ritocchi perché nelle lavorazioni di stoccaggio magari può succedere che si rovini qualcosina e quindi tutte le volte le scene vengono rimesse a terra, come dicevo, vengono ritoccate, vengono a volte anche parzialmente magari modificate. In questo caso del Giappone ci viene richiesto un colore diciamo più oro, più tradizionale da rendere compatibile con il gusto giapponese e noi accontentiamo i nostri partner giapponesi. Tutto l'apparato scenografico viaggerà per mare su container, ma l'intero spettacolo verrà provato a Trieste come se dovesse andare in scena proprio al Verdi. Queste scenografie devono essere pronte per la metà di giugno, verranno al Verdi, verranno montate in palcoscenico, si faranno tutte le prove, si faranno una antigenerale e una generale intorno alla metà di luglio, poi si smonterà tutto, si porterà tutto in dei container che partiranno verosimilmente fine luglio, primi di agosto per arrivare lì verso la metà di settembre. Una volta giunto in Giappone il materiale scenografico di Traviata verrà in un certo senso preso in consegna da personale del teatro. Quando viene sdoganato c'è l'apertura dei container, quindi ci deve essere un responsabile che ha spedito e che deve essere presente lì e ci sarà il nostro responsabile per queste operazioni che andrà qualche giorno prima appunto per aprire il container e per consentire alle scene poi su tir di viaggiare verso Nagoya. Sport adesso, strepitosa vittoria esterna ieri sera dell'Alma a Trieste contro Avellino. I ragazzi di Dalmason hanno superato gli avversari ai tempi supplementari andando sopra di un punto e bloccando l'ultima avanzata degli avversari. Club Giuliano ora è quinto in classifica. Più forti della situazione che gira attorno alla società, più forti delle preoccupazioni, più forti della paura e sì, in questo caso più forti anche di Avellino. La pallacanestro Trieste ieri ha strappato la vittoria contro un team molto determinato piudendo i supplementari con un punto di vantaggio 96-97. L'inizio di Avellino è pieno di energia con due triple a firma di Sykes Harper e una schiacciata dello stesso Harper che porta Avellino sul 14-6. Trieste risponde con Daros, 5 su 10 dal campo, 3 su 3 liberi, 7 rimbalzi e 5 assist, il quale serve poi la schiacciata di Nox. Poi è Cavaliero che in fuga porta i suoi a 19 punti. Sulla sirena però è Sykes a riportare ossigeno alla Sidigas 29-19. Dopo un buon inizio di secondo quarto da parte dei triestini, due bombe di Filloy e Campogrande per Avellino ristabiliscono le distanze, allungate poi con altri preziosi canestri che valgono il massimo vantaggio per i ragazzi di Vucinic, 45-27. Poi un paio di giocate difensive di cittadini ridano energia a Trieste che con Strautins, 3 liberi e una schiacciata, va a riposo sul meno 12. E ancora Mosley a dare energia ai bianco-rossi in avvio di terza frazione, 52-44, ma Nichols e Harper tengono ancora avanti Avellino in doppia cifra, sul 56-44. Trieste torna a farsi sotto, Sanders azzecca due triple, Dragic vola in contropiede, Avellino è costretto a chiamare il timeout, ma i Giuliani sfondano con Fernandez, Dragic e Knox che danno il primo vantaggio ai bianco-rossi sul 61-63, prima del canestro del pareggio di Sykes. Nell'ultima frazione Avellino parte bene, l'alma però è una macchina e si porta a più 7, massimo vantaggio per gli ospiti. Sykes è indemoniato e tiene i suoi in contatto. A 23 secondi dalla fine, la bomba di Sanders sembra segnare il match 83-87, ma due liberi del solito Sykes e una persa di Trieste portano al canestro del pareggio di Harper, che porta tutto al supplementare. Nei 5 minuti di overtime ancora tanto equilibrio fino al 96-95, a 25 secondi dal termine. E quando di secondi al termine ne mancano 7, Dragic si prende la responsabilità della penetrazione del più 1. Avellino ha l'ultimo pallone, ma un caparvio da rosse stoppa l'ultimo attacco e regala così due punti ai biancorossi, che volano ancora in alto in classifica e conquistano il quinto posto. Vi ricordo ora gli ospiti di domani mattina della nostra puntata quotidiana Sveglia Trieste, a partire dalle 7, la rassegna stampa alla prima mezz'ora, dalle 7 e mezza alle 9 un quarto, sarà ospite di Marco Stabile, il consigliere comunale della lista di piazza Vincenzo Rescigno, a seguire dalle 9 un quarto alle 11 invece sarà ospite negli studi di Telequattro, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Mauro Capozella. È tutto per questa nostra edizione del telegiornale. A tutti voi una buona serata.